Pillola numero 1. Introduzione ad Italgiure Web. Il CED, Centro Elettronico di Documentazione della Corte di Cassazione, svolge un servizio pubblico di informatica giuridica e giudiziaria per diffondere la conoscenza della normativa, della giurisprudenza e della dottrina giuridica. L'area informatica giuridica del CED, fin dagli anni 70, si occupa del trattamento della ricerca e della diffusione del dato giuridico globale, in sede nazionale ed internazionale, attraverso la formazione e lo sviluppo della Banca Dati Italgiure. Italgiure Web è il sistema di ricerca giuridica professionale, destinato a tutti i magistrati italiani, agli avvocati e agli studiosi di diritto, che permette la consultazione di massime sentenze e relazioni civili e penali della Cassazione, massime sentenze della Corte Costituzionale della Corte dei Conti del Consiglio di Stato, schede bibliografiche di dottrina giuridica, sentenze della CEDU e della Corte di Giustizia Europea, leggi statali, regionali ed europee. Le informazioni contenute nella Banca Dati della Corte di Cassazione sono organizzate e strutturate in archivi di facile consultazione. Gli archivi sono raggruppati in quattro tipologie, giurisprudenza, normativa, dottrina, schemi, e complessivamente raccolgono circa 5 milioni di documenti utili all'operatore del diritto. Gli archivi sono consultabili operando tramite i comandi e le funzioni di Italgiure Web, immettendo criteri o chiavi di ricerca nei cosiddetti canali di ricerca. Attualmente gli utenti sono circa 55.000 che effettuano circa 6 milioni di ricerche al mese. Il servizio è particolarmente utilizzato dalla magistratura ordinaria e da quella onoraria italiana che eseguono l'85% delle ricerche totali. Italgiure Web permette di effettuare ricerche non solo con dati noti, ad esempio con anno e numero di una sentenza o di un provvedimento normativo, ma anche con dati ignoti o parzialmente noti, esplorando la banca dati con ricerche avanzate che permettono di raffinare i risultati ottenuti anche attraverso l'utilizzo di operatori logici o booleani. Il servizio è rivolto ad un'utenza professionale suddivisa in utenza d'accesso gratuito, composta da giudici costituzionali, giudici ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, giudici tributari, onorari e di pace, procuratori onorari e dipendenti delle amministrazioni centrali dello Stato. I tirocinanti hanno un profilo di accesso come i magistrati, limitatamente al periodo del tirocinio. Poi abbiamo l'utenza d'accesso a pagamento, composta da amministrazioni periferiche, regioni, province, comuni, aziende di Stato, università, avvocati, case editrici, privati cittadini. Italgiure Web è raggiungibile in due modi, da un browser web, preferibilmente Internet Explorer o Chrome, digitando www.italgiure.giustizia.it, oppure dal sito della Corte di Cassazione, digitando www.cortedicassazione.it e andando in fondo alla home page nell'area accesso diretto. Si trova il link Italgiure Web. Ad Italgiure Web si affianca il servizio Sentenze Web, accessibile tramite il sito della Corte di Cassazione e che consente la libera consultazione delle sentenze civili e penali della Corte di Cassazione degli ultimi cinque anni, di cui i due terzi sono di materia penale. Sentenze Web permette infatti di effettuare la ricerca fra le sentenze della Corte di Cassazione degli ultimi cinque anni, oltre l'anno in corso. Le sentenze sono in formato PDF e l'accesso è gratuito e senza registrazione per tutti i cittadini. La home page di Italgiure Web contiene i collegamenti per testuali agli archivi, nonché un menu di funzionalità varie, quale ad esempio la registrazione, il manuale utente, il recupero della password. Per effettuare l'accesso ai Italgiure Web occorre dapprima effettuare la registrazione cliccando sul link relativo. Per poter accedere all'archivio desiderato, apriamo ad esempio l'archivio civile, occorre cliccare sul corrispondente link nella home page ed inserire le proprie credenziali, nome utente e password.